e finalmente un po di fortuna il tempo ci ha assistito per la prima volta e hanno aderito quasi tutte le società qui dalla zona, abbiamo passato i 200 che è un obiettivo che c'eravamo previsti da tempo ma però solo alla sesta edizione siamo riusciti a superare, un ringraziamento va al responsabile del settore ciclismo Franco Siliquini che si è prodicato per fare partecipare tutte le società e tutto il suo staff che ha dato una mano per la realizzazione di questa cicla turistica che si svolge sia nel territorio di Rimini, Tavoleto, Pesaro, insomma è abbastanza complicata. Sì, con due ristori nel percorso e il pranzo a parti all'arrivo credo che la socializzazione con gazebo, sedie e taoli di tutte le società mentre si mangia e si beve qualcosa sia ben riuscita, penso che ricordare in questa maniera un dirigente della UIS come era Nevio Giannini oltre un dirigente anche un amico per me sia la cosa più giusta da fare. Sì, partiamo con delle piccole correzioni per poter avere ancora una partecipazione ancora più allargata.